eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri ragazzuoli belli buon martedì 7 giugno 2022 e se mi vedi il giorno dopo buon mercoledì 8 giugno 2022 e vai e vai e vai che ore sono ragazzuoli belli ore 18 58 le notizie sono sempre belle fresche sempre con il mio ragionamento ragazzuoli ragazzuoli vi abbraccio tutti questo è proprio un rito immancabile il saluto e l'abbraccio allora oggi una giornata molto bella per noi del milano ma per un semplice motivo vabbè c'è una notizia stuzzicante l'avete visto in copertina il sindaco sala di milano in grande con sotto roberto di stefano sindaco di sesto san giovanni adesso subito vi spiego perché la mia solita prefazione di inizio video una bella notizia perché fino a un po di tempo fa tanti tifosi milanisti ma io quando faccio queste affermazioni non è per criticare i tifosi milanisti è per farvi capire che dovete cambiare mentalità testine belle avete capito la mentalità va cambiata il mondo va avanti in un altro modo capito e chi non si adegua è rimasto indietro le rimasti in re si dice in lombard dialect diretto lombardo ogni tanto ho deciso di insegnare un po di inglese però ragazzuoli belli il discorso è questo praticamente tifosi milanisti una rosa fatta solo di giocatori giovani che non sono già dei campioni affermati non ci faranno mai vincere lo scudetto ci hanno fatto vincere lo scudetto i giovani ok con la mentalità di Ibrahimovic ma l'hanno vinto loro non Ibrahimovic chiaro qual è il discorso Ibra fisicamente non ha dato ma mentalmente ha dato tanto ma sono i nostri giovani che hanno giocato con il nostro mister la nostra dirigenza la nostra proprietà punto a capo per cui i giovani non ci fanno vincere ci hanno fatto vincere adesso lo step che facciamo in questo calciomercato sarà di giovani ancora più forti e questi ci porteranno la vittoria dell'ottava champions league lo ripeto per l'ennesima volta noi l'ottava avremmo già dovuto averla con i casini che vennero fuori con l'olimpica e marsiglia di bernard api gagliani sbagliò sbagliò doveva fare una contestazione ufficiale alla uefa e non lo fece e lì con gagliani non sono mai stato d'accordo la signorilità del mina ma vacciapaerate la signorilità del mina adesso questi qua del monza gagliani berlusconi vinciamo la serie a la champions league vabbè dai aspetta e spera che poi si avvera però ragazzoni belli la bella notizia è oltre ad avere vinto scudetto che la notizia di oggi la rosa del milan è quella che ha più valore in serie a 522 milioni di euro belle zucchine mie belle godo come un pazzo anzi no godo come una bestia e sì perché sono una bella bestia god anche se non si vede in video godo come una bestia e questo è solo l'inizio che sia chiaro lo dico alla concorrenza lo dico youtuber di altre squadre lo dico giornalisti che ti fanno altre squadre questo è solo l'inizio che sia chiaro allora io spero che il nostro joffrey moncada capo scout del mina non venga mai preso da un altro club a suon di soldoni perché se no sarebbe un problema ma non penso joffrey moncada agli occhi puntati qui sto partendo a razzo con le notizie sul mina per spiegarvi in breve per finire la prefazione scusatemi ma questa ve la devo dire perché la copertina che ho fatto perché adesso si è instaurata la lotta oggi con oggi oggi 7 giugno 2022 si è instaurata la lotta tra il sindaco beppe sala e il sindaco di sesto san giovanni ma poi adesso su finale video ve ne parlo anzi vi leggo le loro dichiarazioni di entrambi gli occhi di moncada di joffrey moncada del nostro capo scout sono puntati su adil oshish centrocampista offensivo del 2002 del saint etienne questo ragazzo se ne andò praticamente tempo fa dal paris saint germain per poter giocare insomma c'è un buon rapporto di joffrey moncada che sta per essere dato a maldini massara su questo ragazzo ragazzi scusate il gioco di parole ma joffrey moncada nostro capo scout ma scusate come si diceva una volta che adesso non si usa più dirlo ma lo dico lo stesso ma che ve lo dico a fare abbiate pazienza stiamo sintonizzati allora la notizia di oggi la sapete per ibraimovic se ne riparlerà praticamente ve l'avevo già detto qualche video fa per un suo contratto ufficiale tra virgolette da giocatore del mila ma che non lo sarà perché ibra praticamente in questi mesi farà già da dirigente per il mina perché questo è un antipasto un anticipo da dirigente del mina si parlerà di un suo vero e proprio contratto a gennaio 2023 ma sarà un contratto basso rispetto a quello che ha avuto fino adesso adesso c'è un pro forma un pro forma praticamente simbolico di contratto per farlo rimanere al mina ne basta ma lui è già proiettato essere un dirigente arriva anche un'altra conferma che orighi il nostro orighi il nostro attaccante che arriva direttamente dal liverpool e io sono contentissimo di orighi perché è un gran giocatore arriverà praticamente sul finale di questo mese di giugno si parla della metà della seconda metà del mese giugno cioè praticamente sul finale per le visite mediche e le firme e sono contento che il milan riscatta florenzi dalla roma si sta maldini sta imbastendo una trattativa per portare via florenze due milioni e mezzo ma non è possibile vedrete che lo porteremo via tre milioni di euro con un piccolo bonus io quando vi dico le cose non è che ve le dico per dire paolo maldini sa riconoscere i campioni sa comporre una squadra con massara e moncada voglio ricordarvi che ai van gazzidis è specializzato nel discorso merchandising il conto in ordine del milano e tutto il resto cioè trovare gli sponsor e tutto il resto ma quando io vi dico non parlo a vanvera parlo a ragion veduta paolo maldini ha imparato ha imparato a fare le trattative per trattare il prezzo grazie ad eliot lo ripeto per la seconda volta l'ho già detto ieri lo ripeto ancora perché se tu concordi con la roma che florenzi te lo porti via cinque poi tiri il prezzo a due e mezzo per arrivare a tre qui siamo allo stato dell'opera se invece tu chiedi a nedved a come si chiama quello lì l'ex dirigente della della ferrari arriva bene ecco con rispetto parlando verso il signore arriva bene ci mancherebbe non mi viene in mente il nome come devono fare queste trattative questi qui dicono non c'è problema noi siamo comandati dal gruppo exore abbiamo i soldi via via piccioli questo è l'inizio praticamente del tracollo finanziario punto e invece come fa maldini come gli ha insegnato eliot e l'inizio del successo anzi siamo già in corso del successo allora vi leggo le parole del sindaco per pensare allora faccio una prefazione oggi a milano c'è fuori salone cosa vuol dire tutti gli eventi legati al salone del mobile salone mobile a milano per colpa della pandemia non si è fatto per due anni questo vuol dire che tutti i costruttori immobilieri italiani non hanno potuto esporre le loro bellezze all'interno della fiera di milano per mostrare i loro prodotti e venderli oggi milano è piena così di stranieri di compratori che arrivano da tutto il mondo eventi su eventi aperitivi a cielo aperto insomma uno spettacolo in poche prove e io sono qua a fare il video per voi vedete il vostro alex come bravo invece di essere aperitivo sono qua a fare il video con voi è uno spettacolo va bene dai ragazzi lo faccio volentieri e magari chissà mai che vi farò una sorpresa faccio un video non so in esterno adesso vedremo ma il concetto è questo sindaco di milano ha inaugurato il fuori salone salone mobile internazionale del mobile e ha parlato anche dello stadio per milan e inter e si è capito palesemente che si è scontrato anche soprattutto contro paolo scaroni perché paolo scaroni ultimamente ha un po stuzzicato il sindaco di milano ma quanto pare il sindaco di milano non l'ha mandata giù ma io dottor beppe sala sindaco di milano con rispetto che le voglio le dico subito glielo ripeto per la duecentesima volta perché l'alex cuore rosso nero lo ripete per la duecentesima volta perché sta battaglia la faccio da due anni lei rimane con un pugno di mosche in mano con lo stadio capito no anzi facciamo una bella cosa visto che l'è interista ma tanto io so già che andrà a finire così san siro lo tenga per gli interisti per l'inter noi ci becchiamo quello nuovo di trinca a sesto san giovanni perché andrà a finire così mister gerry cardinale non si faccia fregare dalla politica italiana mister gerry cardinale non si faccia fregare dalla politica italiana mister gerry cardinale non si faccia fregare dalla politica italiana niente beppe sala dice questo un conto della burocrazia riferito a paolo scarone presidente mio un conto della burocrazia un conto delle regole e le leggi che vanno rispettate dice beppe sala lo dico anche ad altri politici che la fanno facile per lo stadio le regole vanno rispettate lo dice uno che avendo fatto un miracolo con expo cui ho visitato è stato quattro anni in tribunale sì perché sala ha ricevuto parecchie seduto difendere da parecchie denunce insomma cause in tribunale più che denunce compagna bella per sedicenti ma servizi ne è uscito fuori pulito tranquillo scaroni non è svizzero scaroni non è svizzero è italiano da decenni lavora in questo sistema lo conosce può anche sorprendersi ma se è così cosa facciamo facciamo finta che non sia così dice sala chi si occupa della cosa pubblica deve rispettare le leggi questo è quello che voglio fare io ribadendo la mia volontà che milan e inter rimangano a milano perché lui vorrebbe che inter e milan rimangano a milano per i piccioli che lo stadio nuovo porta no 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 guardi sindaco sala forse lei non ha ancora ben capito questo gery cardinale ex goldman sachs chi è ma io l'ho già capito al volo perché io conosco persone che lavorano nell'alta finanza io non sono uno di quelli che quelli dell'alta finanza non li conosce io ho avuto modo di conoscerli sono persone estremamente gentili sono come me e come voi tu sei una persona normale e se è una persona normale se una persona tranquilla seria quelli di goldman sachs jp morgan piuttosto che sono come te non cambiano non è che vanno in giro con un'armatura stile robocop e una limousine una volta c'era lammer limousine adesso lammer limousine non c'è più perché lammer è uscito fuori produzione adesso c'è tutti altri macchinoni piuttosto che non pensare che sono persone così sono persone normali sono persone le persone dell'alta finanza vanno in giro in modo normale si mimetizzano tra le persone come gerry cardinale tra i tifosi del milano festeggiare lo scudetto però sono potenti sono decisi sono squali lo dico in senso buono sono persone che quando dicono una cosa la fanno e se non ho capito male mister gerry cardinale se non ho capito male questo uomo è deciso sullo stadio a sesto san giovanni è già deciso tanto è vero che adesso vi leggo che è uscito fuori il progetto stadio per sesto san giovanni e ce lo rivela oggi roberto di stefano il sindaco che io voglio che sia riconfermato sindaco ieri era ospite a sport italia da griscitello all'inizio dice roberto di stefano il presidente scaroni aveva portato avanti l'idea di realizzare il progetto di popolus lo stadio cattedrale e vi dico subito che lo stadio per il milano che sarà tra i 60 e 70 mila posti a sedere non sarà più popolus stadio cattedrale il progetto popolus verrà pagato e sta o è già stato pagato ed è stato già accantonato poi c'è roberto di stefano ma considerando che norman foster ha progettato tutte le aree falche e che conosce la perfezione l'archeologia industriale del sito si è ritenuto che dialogare e far progettare l'area dello stadio a chi ha già disegnato un milione e 250 mila metri quadrati qui si parla di proprio del polo del nex area falca milano sesto con il centro di ricerca con le moduli abitative e tutto il resto il nuovo parco che in mano a questo architetto questo tecnico norman foster praticamente dice abbiamo insomma scaroni all'inizio era partito con questi gli americani di popolus progetto è stato abbandonato adesso si è voluto consultare norman foster per dare uno stadio che sia in concerto tutto il contesto di dax area fa giusto perché quest'area si chiamerà milano sesto giusto giusto perché tu non fai la scarpa della ciabatta fai un progetto crei stilisticamente un progetto che sia in concerto con il resto giusto una mano diversa di fatti dice roberto di stefano il sindaco di sesto giovane si sarebbe vista poi il sindaco di sesto dice sembrerebbe che il piano b cioè noi di sesto stia diventando il piano a e qui beppe sala rosica rosica forte e noi ci speriamo con tutte le forze il confronto con i club ha portato le squadre a conoscere la realtà del nostro territorio che è collegato benissimo con il resto dell'area metropolitana metro ferrovia tangenziali siamo vicini alle nate le squadre o anche una sola hanno bisogno di un nuovo stadio in tempi veloci per rimanere competitive a livello internazionale io simpaticamente oggi ho fatto un post il mio instagram roberto di stefano sindaco di sesto san giovanni uno di noi italia 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 malata di burocrazia ammalata di parole nel mare di una politica che non va bene ragazzi non va bene la politica si deve dare una svegliata in questo paese forza mira sempre comunque ovunque è uno spettacolo